buongiorno buonasera a seconda oggi io e voi ci prepariamo ad impazzire vi presento una chicca una piccola gemma rarissima da vedere su youtube tra l'altro posso dirvi di aver maneggiato centinaia forse migliaia di orologi negli ultimi anni e ogni qual volta trovo un prodotto di un brand che propone veramente qualcosa di diverso e che dietro è percepibile una idea chiara e soprattutto riuscendo a mantenere un punto prezzo interessante beh tanta roba un po di emozione c'è tra l'altro ho parlato di punto prezzo nelle conclusioni dirò il costo di questo orologio durante la review scarrellerò tutte le skill e sarete poi voi nei commenti qui sotto a dirmi qual è secondo voi il punto prezzo o meglio se è buono o meno questo aspetto tra l'altro sarà fortemente divisivo questo prodotto perché perché particolarissimo quindi o lo amerete tanto o non vi piacerà per nulla si può dire tutto di questo orologio certo non che sia ruffiano il brand che lo propone è Angus ho già recensito qualcosa in passato ragazzi se volete aiutarmi darmi carburante lo potete fare velocissimamente a gratis like al video iscrizione al canale campanella per i contenuti futuri per voi un attimo per me linfa vitale partiamo subito alla grande con il packaging che in alluminio non è in plastica che simile alluminio ma è alluminio bellissimo anche al tatto logato angles abbastanza voluminoso lo si apre dentro troviamo la parte spugnosa e chiaramente tutto quello che il corredo oltre all'orologio un secondo cinturino e la card di garanzia cartacea light box ragazzi countdown 3 2 1 spang immagino che molti di voi saranno straniti dalle immagini che state vedendo perché perché un orologio assolutamente diverso dal solito in realtà qualche brand molto importante mi viene in mente jacob bencoma ve ne sono alcuni altri propongono orologi di questo genere chiaramente per pochi pochissimi eletti che hanno infinite risorse economiche in questo caso appunto una delle particolarità che un orologio così che sicuramente non arriverà a quel livello di dettagli di qualità in senso assoluto ma è acquistabile davvero un prezzo eccezionale bene a livello costruttivo è sicuramente ben fatto il percepito è piuttosto elevato come raccontarlo abbiamo questi due componenti in acciaio 316 l che di fatto sono tenute assieme da due elementi portanti entrambi cilindrici ovvero questo bel vetro che dettaglieremo tra poco è il cilindro interno su quale troviamo gli indici numerici per quanto riguarda le dimensioni anche in questo caso un po particolare da raccontare parliamo di larghezza 50 mm le componenti in acciaio diciamo da punto a punto quindi come ingombro al polso 42 mm il diametro massimo del cilindro 27 distanza fra le ansette quindi larghezza del cinturino 24 peso 115 grammi è chiaro che in questo caso non possiamo parlare di fondello diciamo che nella parte dietro del cilindro troviamo quasi invisibili ecco che sono grigio scuro su nero ci ho messo un attimo a capire che c'erano delle indicazioni ve ne dico una tre atmosfere quindi vi laverete le mani io eviterei calcolando la particolarità dell'orologio di fare anche una doccia parliamo invece di vetro anzi di vetri davvero capolavoro quello più importante quello centrale a cilindro zaffero antiriflesso anche i due laterali sia a sinistra che a destra dell'orologio sono antiriflesso e zaffero chiaramente più piccoli e flat il cilindro sarebbe di fatto il nostro quadrante tridimensionale su questo abbiamo gli indici e come si fa a leggere l'ora allora più facile vi metto delle immagini sottofondo è più facile a vedersi che non a raccontarsi comunque abbastanza semplice vi sono quattro chiamiamo le sfere tridimensionali quattro stecche di lunghezza diversa che ruotano attorno a questo cilindro andando a indicare l'ora con tacche di 15 minuti quindi la lettura è tra virgolette approssimativa non si spacca il secondo né il minuto abbiamo poi la seconda possibilità quindi una lettura dell'ora standard sulla parte sinistra del nostro orologio lo vedete con tipiche sfere tradizionali appunto è classico sistema di lettura la particolarità lo vedete che vi sono due corone perché i due corone perché vi sono due movimenti e sono entrambi i movimenti giapponesi entrambi i movimenti automatici 6 6 t 15 micro movimenti automatici ad alta frequenza oscillante 28.800 alternanze vengono regolate da queste due belle coroncine che sono lucide e sono chiaramente a pressione e non hanno nessun tipo di problema tra l'altro i movimenti sono montati in modo differente nel senso che lo vedete quello laterale vi dà il quadrante quindi è montato in modo tradizionale con diciamo così la parte la massa oscillante verso quello che normalmente il nostro posto in questo caso l'interno del cilindro e chiaramente la lettura verso la parte del quadrante per la lettura dell'ora verso l'esterno viceversa quello che invece va a regolare la lettura centrale è montata con la massa oscillante verso l'esterno e che è anche qualcosa di piacevole da guardare vi metto qualche immagine in sottofondo bene abbiamo pasta luminescente bg w9 sia sugli indici su chiamiamolo così cilindro quadrante principale e su sfere dell'ora secondaria per cingere il polso questo particolarissimo angles abbiamo due possibilità in realtà è lo stesso tipologia di cinturino in gomma sintetica bello ben realizzato ottima anche la chiusura butterfly logata uno è nero uno è rosso ciò che non mi piace di questi cinturini è il fatto che per regolarlo bisogna tagliarlo e poi in caso noi volessimo rivendere l'orologio oppure iniziassimo andare in palestra o a mangiare troppo quindi ingrassare ad aumentare il nostro polso beh diventa chiaramente un problema a proposito come sta attorno al nostro polso io avevo paura per quanto riguarda l'elemento comfort perché voluminoso non sapevo quanto pesasse esattamente eccetera 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 e soprattutto avevo paura girasse tendesse a ruotare sul polso stesso invece è 115 grammi quindi non particolarmente pesante il cinturino aiuta a mantenere la posizione fissa dell'orologio quindi non è poco confortevole anzi il problema è che sicuramente non si può mettere sotto la camicia e essendo così particolare voluminoso è facile prendere dentro uno spigolo e calcolando il vetro credo sia delicato quindi proprio un orologio da tutti i giorni e da tutti i mestieri io non lo definirei poi bello non bello al posto torno alla mia idea che ho esposto all'inizio è fortemente divisivo a me piace tantissimo per altri immagino che non sarà così io direi di andare a questo punto alle conclusioni ogni singolo pezzo di questo orologio è stato ingegnerizzato e prodotto ad hoc tra l'altro per una tenatura limitata sono qualche centinaia di pezzi questo sapete va ad aumentare i costi produttivi abbiamo tre vetri zaffero quello centrale un capolavoro abbiamo addirittura due movimenti automatici seico abbiamo un bellissimo packaging e il prezzo che viene proposto questo angle e 910 euro ditemi voi il punto qualità prezzo a questo punto come io lo trovo semplicemente incredibile se questo orologio diciamo così fosse proposto da un brand svizzero quanto sarebbe il listino punto interrogativo vabbè provate voi a rispondere io spero vi sia piaciuta la recensione ragazzi un saluto alla prossima ciao ciao